C'era anche Roberta Fantozzi e poi c'era anche Simona Suriano che ci saluta di Marifesta, Eleonora Forenza che ci saluta, Rosa Rinaldi, insomma siamo tutti insieme e niente, allora se non ci sono gli ultimi due, Paolo Ferrero? Non la so, non risponde, l'ho chiamata, Roberta? Eccola, allora un minuto, Roberta un minuto, grazie. Io in realtà avevo pensato anche di non intervenire più, volevo chiedere soltanto un paio di cose a Hans Birbau, non so se è possibile, la prima fra le conseguenze che ci sono più immediate c'è la richiesta di Finlandia e Svezia di ingresso nella Nato, è una delle conseguenze più rischiose perché comporterebbe un'escalation, la militarizzazione del Baltico, anche nucleare. Ho letto le posizioni dell'alleanza di sinistra della Finlandia particolarmente in difficoltà, come si può intervenire su quel livello se viene assunta come io credo debba essere come una priorità. La seconda, rapidissima, faccio riferimento a quello che è stato già citato da altri, l'incontro che c'è in questo momento a Madrid. C'è un testo che è un testo, diciamo così, che non è entusiasmante, però ecco, io credo che, diciamo, sia effettivamente molto necessario promuovere iniziative su scala europea di quel tipo perché noi abbiamo bisogno, ad esempio, avremmo avuto bisogno di una giornata di mobilitazione europea contro la guerra. Allora, che si debba procedere molto rapidamente su questo. Avrei delle altre cose da dire, ma mi taccio perché è tardissimo. Perché è il tuo compleanno, auguri. Grazie. Grazie, sono domande veramente molto importanti, in particolare mi preoccupo molto quello che succede adesso in Finlandia e in Svezia. Abbiamo anche problemi interno della sinistra europea per quanto riguarda i partiti della sinistra in Finlandia. Abbiamo la left alliance, l'allianza di sinistra in Finlandia. C'è un grande dibattito in questo partito e abbiamo, nella ultima riunione del segretariato politico della sinistra europea, abbiamo discorso questa cosa. L'unica via, l'unica uscita di questa cosa è di rafforzare, di intensificare il nostro dibattito e di raggiungere una posizione chiara. Adesso la situazione è molto difficile perché per quanto riguarda questo partito della sinistra in Finlandia, left alliance, ci sono, come ci hanno spiegato i compagni, un terzo è a favore alla Nato, un terzo strettamente contro e un terzo non sa. questo è una cosa molto preoccupante per tutta la sinistra europea perché abbiamo avuto sempre una posizione molto critica per quanto riguarda la politica della Nato. Secondo me noi dobbiamo mantenere questa posizione critica per quanto riguarda la politica della Nato. Per questo dobbiamo aprire un dibattito e adesso stiamo preparando un dibattito sulla sicurezza in Europa anche per quanto riguarda la situazione, l'atteggiamento per quanto riguarda la Nato. È molto difficile, non c'è dubbio, è una situazione secondo me molto preoccupante per la sinistra europea. Però fino adesso non c'è una soluzione, dobbiamo lavorare di trovare una soluzione per quanto riguarda questa grande questione. Per quanto riguarda l'altra domanda, io ho già detto che si svolgerà una conferenza per la pace a Guernica il 4 di giugno e noi siamo anche impegnati per quanto riguarda il vertice per la pace a Madrid, quanto ci sarà il vertice della Nato a Madrid alla fine di giugno. Siamo tutti impegnati a fare delle attività, siamo in preparazione come sinistra europea con tutte le altre organizzazioni in Spagna, fuori Spagna, siamo impegnati di organizzare una grande manifestazione contro la guerra e per la pace. E ci saranno sicuramente alcuni seminari da diverse organizzazioni, però la sinistra europea è impegnata in queste attività per quanto riguarda il vertice per la pace a Madrid. Grazie.